video ricetta degli arrosticini di pollo con prosciutto ingredienti 300 g di petto di pollo 50 g di parmigiano 40 g di pan grattato 150 g di prosciutto cotto olio d'oliva e timo spennellare le fette di petto di pollo con l'olio bene da entrambi i lati mescolare a parte il parmigiano con il pan grattato del timo e un filo di olio passare ogni fetta di pollo nel mix preparato girandola da entrambi i lati e schiacciando bene farcire il pollo con una fetta di prosciutto cotto e del parmigiano grattugiato arrotolare su se stessa la carne fino ad ottenere degli involtini e ripetere lo stesso procedimento fino ad esaurimento ingredienti affiancare tra di loro gli involtini e inserire perpendicolarmente degli stecchi di legno alla distanza di un paio di centimetri l'uno dall'altro tagliare quindi tra uno stecco e l'altro in modo da ottenere gli arrosticini ripassare nuovamente gli arrosticini nel mix di pangrattato in modo da panarli anche ai lati sciogliere un po di burro in padella e insaporirlo poi con qualche foglia di salvia spezzettata adagiare infine gli arrosticini e farli cuocere a fuoco medio per circa 3-4 minuti per lato fino a che non sono ben dorati